Non c'è ancora il nome della ditta che seguirà i lavori di allungamento della pista del Gino Lisa di Foggia. La commissione di gara di aeroporti di Puglia ha esaminato solo la documentazione amministrativa presentata dalle 32 imprese che hanno avanzato le offerte per l'esecuzione dei lavori con un appalto da 8 milioni e 300 mila euro. La commissione ha escluso alcune ditte che non avevano i documenti in regola e ha chiesto integrazione a quelle ammesse alla seconda fase. Dopo questi adempimenti la commissione tornerà a riunirsi a breve in una ulteriore seduta pubblica per proseguire le attività. In quella sede saranno vagliate le offerte economiche e saranno selezionate le migliori quattro proposte da cui scaturirà la vincitrice. Per la giudicazione dei lavori potrebbero volerci alcune settimane. Nel frattempo si spera che giunga a conclusione l'iter per la concessione da parte del Ministero della valutazione di impatto ambientale per l'allungamento della pista che sarà portata a 2 mila metri. Per i lavori di ammodernamento del Gino Lisa sono disponibili 14 milioni di euro di fondi FAS. In attesa che riprendano i collegamenti dallo scalo del capologo Dauno c'è la possibilità per la Capitanata di tornare a volare dalla base militare di Amendola, come annunciato a fine gennaio dal Ministro della Difesa Mario Mauro. La sede del 32esimo stormo dell'aeronautica è disponibile a ospitare i voli civili in via sperimentale e temporanea. Tocca agli antilocali e agli operatori economici a questo punto attivare un tavolo di confronto con l'ENAC e l'ENAV per studiare come e quando attivare i collegamenti aerei, soprattutto i charter turistici, dalla base di Amendola.